Ritorna ai proprietari Lautaro Martinet, che è finito al di fuori di un problema fisico nell'ultimo impegno contro Salisburgo. Simone Inzaghi sente 11 che, con ogni probabilità, dovrebbero iniziare dall'inizio nella partita contro i Brianzoli, ad eccezione di Acerbi, ancora fuori per infortunio e indubbio. E quindi nei pali. Darmian. De fra i bastoni i tre in difesa. Dumfries Di Marco Quinti centrocampo con M-Chitarian Barella Mezzoli, probabilmente contro Monza. Potrebbero giocare a frattesi posto delle Armeno Calanoglu nella sala di controllo. Lautaro Martinet il nuovo acquisto Marcus Lilian Turam in avanti. Inter bite Ignazia in ritorno re di via e al 6 Inter va sotto errore nella cornice di bastoncini. Paolauskas serve Lila. Palla al centro per Duamena che batte qualche passo in passato e sblocca la gara. La stampa Nerazzurri. Spreca molte occasioni ma dentro 54 trovano pareggio ben acceso una perla Barella lancio bastoncini. Controllo dell'ex Cagliari e diritto attraversare. A T67 ai roll di sanzioni con la penalità un tocco. Della mano Lautaro Martinet facendo infuriare i ragazzi di Enzaghi. F dal punto cui va Medeiros che. Uno scavino supera difensore estremo svizzero. Quest'ultimo poco dopo a Lautaro una bella croce per. La testa 22 del Toro. Tre più tardi. 83. E ancora L argentino colpire. Questa volta dal punto. Ribaltando così risultato e dando successo all Inter IL 42 della giovane stabile Giacomo arriva anche. Finale assistenza Correa.